buongiorno amiche ben ritrovate sul mio canale come vedete questi sono gli orecchini indossati questo è il primo questo è quello il secondo tutti e due li andremo a completare oggi nel video che vedrete tra pochissimi minuti ce n'è anche in realtà una terza versione per questi colori pantone ma il video è troppo lungo quindi necessariamente dovrò montarne probabilmente un terzo staremo a vedere quindi voi mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella così avrete le notifiche di tutto ciò che caricherò sul mio canale ok quale vi piace di più io questi le adoro anche perché si portano al di là dei colori ma si porta molto anche questo effetto a scacchi quindi questo top questi sono più romantici un po più bonton vabbè decidete voi quale vi piace ciao buongiorno creative ben ritrovate sul mio canale oggi ci incontriamo per il continuo della parte di video di su touch lavori in corso vi ricordate che settimana scorsa ci siamo fermati a questo punto bene oggi continuiamo insieme questa piccola parte di video per concludere gli orecchini e per forse forse per iniziarne un secondo che questo che faremo insieme e poi non lo so tanto lo sapete ormai è un lavoro in corso l'idea è cominciata da questo studio di colore ero partita nel video precedente a mostrarvi i colori pantone come vedete io adesso ho messo tutto su insomma un'agenda in cui raccolgo un po di idee un po di miei disegni un po di progetti e un po di cose se vi siete persi ovviamente il video precedente vi metto giù il link nell'info box per andarvelo a vedere e insomma sapere da dove siamo partite per iniziare questo e vi metto anche qui il link su nelle schede in modo tale che possiate insomma partire dall'inizio allora veniamo a noi allora la primissima cosa da fare ovviamente questo è un orecchino al lobo quindi va indossato vicino al lobo io ovviamente ho fatto varie prove ed ho deciso che il perno lo posizionerò da questo lato questo ovviamente il nostro retro quindi io andrò a mettere un perno di questa tipologia ad incollo ne esistono alcuni anche con le asoline fatti vedete in questo modo che sono molto utili e pratici per il su touch quindi come consiglio cercate di avere entrambe le tipologie perché risultano tutte e due molto utili ovviamente cercate di trovarli sempre in acciaio che sono sempre i migliori allora quindi primissima cosa da fare anzi ne dobbiamo fare due al di là va bene che qui non è venuto precisissimo vabbè dettagli non me ne sono accorta lavoro in corso con la camera davanti però la prima cosa che io andrò a fare è mettere una perlina qui al centro metterò quindi una 15 zero questa è della to che richiama quindi vedete ve lo mostro da vicino richiama molto il colore di questa piattina quindi andiamo a chiudere questo micro forellino utilizzo il filato della miuki questo che è un rosa un rosa antico e quindi che insomma richiama veramente i colori che ho utilizzato cosa faccio quindi spunto dal retro vedete al centro della piattina non è facilissimo con il telefonino qui davanti però insomma ci proviamo e quindi vado a inserire la mia perlina e poi vado dall'altro lato sempre individuando il centro ok perché ovviamente se non beccate il centro di queste piattine le piattine insomma opporranno un po di resistenza sistemate la perlina vedete in modo corretto e poi dopo ripassate quindi sempre meglio fare due passaggi se riuscite quindi primo step fatto e fate ovviamente un nodino tagliate il filo in eccesso che non ci serve più ed ora passiamo all'incollaggio del nostro vernetto mi raccomando stabilite bene il punto se avete difficoltà fate prima i due orecchini e poi prendete un punto di riferimento una misura con un righello per segnarvi insomma la parte dove lo volete andare a fissare perché finire un orecchino e poi fare l'altro mi potrebbe fare incorrere poi in un errore finale quindi confrontate bene due orecchini che vengano il più simili possibile ovviamente e che il perno sia fissato io ovviamente ho fatto delle prove poi un pochino ci sono abituata quindi io fisserò proprio qui il perno in questo punto ok quindi sposto prendo la mia colla io utilizzo questa ma vorrei anche provare la gutter man che non prendo da tanto tempo allora quindi io vado a mettere semplicemente vado a mettere in questo punto un po di colla qui dove avevo messo il mio tessuto per andare poi ad adagiare ed a cucire insomma la catena strass quindi vado dopo di che prendo poggio e vado a mettere ovviamente ok faccio una leggera pressione scusate le mie mani faccio una leggera pressione ed attendo che la mia insomma la mia colla faccia presa in questo momento quindi voi dovrete essere pazienti ed attendere che insomma la colla cominci a fare presa quindi dipende un po dalla colla che utilizzate attendete un pochino e cominci a fare la presa dopodiché si continua nel frattempo lasciamo che qui insomma fa un po di presa e passiamo a quest'altro orecchino allora quest'altro orecchino da dove parte questo lo mettiamo da parte parte da un modulo base con un semplice elemento in ceramica come vedete io ho già cucito tutto quindi in realtà è inutile che rifacciamo continui video la tecnica non cambia ho realizzato semplicemente un modulo base con tre piattine le tre piattine che utilizzato anche in quest'altro quindi la blu la grigia e questa metallica anzi qui ne utilizzato una in meno perché lì avevo utilizzato anche questa qui invece ne utilizzate solo tre come vedete l'orecchino è più piccino ora casca il perno è più piccino però cosa ho deciso volevo fare un orecchino piccino proprio veramente un decoro per il lobo per un abito molto sobrio e ho deciso però di metterci questo che cos'è questo è semplicemente un fiorellino ovviamente io vi mostro dove ho preso i materiali dove li prendo dove li ripetisco alcuni lo per le collaborazioni altri di acquisto però il mio intento è di darvi degli spunti e quindi sono certa che qualcuno dirà carini quei fiorellini dove le ha presi le ho presi dalla 2 più ma sicuramente ritroverete anche da altre parti allora quindi la prima cosa da fare dopo che avete realizzato il modulo base con delle perle da 3 mm che ora vado a vedere dove sono queste le ho prese da make bijou le light salmon e quindi ho fatto semplicemente questo modulo base senza catena strass senza niente anche perché utilizzando la piattina questa bellissima da comunque un bel tocco di luce quindi due perle da 3 mm e ho realizzato il mio modulo base la cosa ovviamente che mi preme farvi vedere e come comportarsi scusate c'entro un attimo la camera o perlomeno come vi comporto io quando devo insomma fare qualcosa del genere prendo una bella pinza allora dicevo prendo una bella pinza e vado semplicemente ad aprire il mio chiodino in questo modo quindi la solina torgo la coppetta torgo anche il chiodino vedete che è fatto in questo modo dopodiché prendo ago e filo cerco di non far smuovere tutti i petali e velocemente piego su se stesso ok il fiorellino e do qualche punto quindi prendo il colore sempre di filato quello che ho utilizzato poc'anzi questo lo saperla e do qualche punto in modo da fermare in modo da affermare i vari strati del fiore tra di loro senza farli muovere bastano veramente pochi punti non non ci vuole chissà non ci vogliono chissà quanti punti però io in questo modo come dire posso tranquillamente dopo utilizzare l'elemento per andarlo a incollare senza che i fiori si aprano e insomma vadano camminando perché avrei potuto anche prendere i fiori tac e incollare invece cucendoli e poi incollandoli il lavoro risulta a mio avviso più agevole e più semplice ci vogliono pochi secondi ma state sicuri che ci guadagnate nel tempo per poi andare a incollare mettiamo un attimo quindi da parte il fiorellino ed vado velocemente a a finire il modulino base che avevo già iniziato la volta precedente penso di avervelo mostrato vabbè semplicemente tre piattine allora prendo la mia bella 3 mm come vedete questo giro praticamente quattro strisce di piattina perché le piattine sono tre ma vedete che quattro poi le giro da un lato e due dall'altro quindi comincerò da questo lato infatti vedete che ho ancora qui il filo di colore più scuro perché tanto qui esternamente non si vedrà quindi proseguo semplicemente con inserire la mia perla da 3 mm e ad individuare ovviamente il le quattro piattine e a cucirle tutte quante insieme perché ovviamente a difficoltà ne cucia insomma due per volta anziché tutte quante insieme cercate di ripassare all'interno della perla una seconda volta e poi ovviamente cuscite anche l'esterno delle piattine io per praticità insomma non vi mostro tutti i passaggi unite poi le piattine sul retro ed andate a tagliare nel frattempo ovviamente mi sono ricordata che ho il tempo di incollare anche l'altro perno quindi vado a mettere un po di colla e a prendere anche il perno per l'altro orecchino così nel frattempo insomma si asciuga ed ottimizziamo i tempi e poi dopo vi mostro come completare e cucire il fiorellino sull'altro orecchino ho staccato il perno perché mi rendo conto che c'è un po di dislivello e quindi prendo il prendo il perno quello con la solina e vado ad esercitare una leggera pressione in modo che si vada ad adagiare perfettamente nel dislivello ed a contornare la mia perla quindi questa è una tecnica insomma che quando il dislivello è grande può tornare utile piegare leggermente il pernetto vedete ed andarlo ad adagiare perfettamente nella scanalatura che c'è tra le due piattine e la perla quindi questo è un modo per ovviare a questo piccolo problema perché l'altro invece andava molto ovviamente quindi non piaceva in stato anche l'altra parte dove vedete io c'ho ancora un po di filo perché adesso andremo a riprendere il fiorellino e a cucirlo taglio un po di piattina che mi crea insomma un po di fastidio ok dopodiché parto vedete che il mio filo lo tengo posizionato qua di lato praticamente il nostro fiorellino che abbiamo uscito e posizionato a doppio diciamo dobbiamo semplicemente centrarlo il centro quindi del nostro fiore deve andare proprio dietro a questo riccioletto in questo modo ve lo mostro da quest'altro lato vedete praticamente il nostro fiore e posizionato qui in questo modo quindi io direi qui va benissimo quindi per prima cosa mettiamo un pochino di colla ok qui in questa zona e poi dopo procediamo col dare qualche punto la mia colla mi sta abbandonando si è creato un foro qui sul lato vabbè speriamo di riuscire a finire gli orecchini e quindi vado qui vedete metto un po di colla qui un po di colla qui qui dove si andrà ad adagiare insomma il nostro fiore come sempre non esagerate troppo ok poi vabbè queste sono cose che con il tempo imparerete quando andate ad accostare il fiore siate decise non fate che faccio qui lì su giù se vi è più agevole tagliate il filo ok e siate ovviamente decise perché altrimenti poi rischiate di sporcare il vostro fiore non toccate la colla con le mani il vostro fiore con la colla e poi dopo non riuscite più a staccarle a riposizionarlo si sporca e poi dovrete prendere un altro fiore quindi diciamo che lo posizioniamo più o meno così in questo modo vado a prendere l'altro gli osservo e direi che va bene questo come vedete già è cuscito questo invece soltanto incollato adesso poi tra un po la colla farà presa e procederemo col dare qualche semplice puntino quindi velocizzando prendo nuovamente il filo quello color cipriato e passo avanti e dietro individuando sia ovviamente il fiore che il centro delle piattine c'è lo spazio che c'è tra le due piattine oppure nello spazio laterale della scanalatura vado avanti e procedo sempre con piccoli punti passo vedete anche all'interno in prossimità di la perla sempre individuando ovviamente o la scanalatura della piattina oppure lo spazio tra le due piattine perché ovviamente il filo sul davanti non si deve assolutamente vedere vi osservo e vedi vediamo che sono speculari procedo ovviamente ad incollare anche l'altro perno che precedentemente ovviamente leggermente piegato sempre per adagiarlo all'interno della nostra scanalatura posiziono ovviamente il perno e poi vi faccio vedere in qualche breve passaggio come rafforzare il perno sfruttare anche qualche punto di cuscitura e non soltanto la colla entro ovviamente vedete all'interno della mia piattina e realizzo dei punti andando da un lato ad un altro del nostro elemento ovviamente sfruttando quello che ho la piattina un pochino il fiore un po di ultrasuite sfrutto i vari punti d'appoggio e creo una sorta di rete al di sopra del nostro perno per fissarlo quindi stiamo sicure che il nostro perno da lì non lo muoverà più nessuno mi raccomando quando date i punti sempre molto piccoli sull'esterno e non tirate troppo perché il modulino non si deve deformare ma i punti devono essere soltanto di supporto e di sostegno quindi andate piano come vedete adesso prendo un pezzetto di carta tipo quello per carta modello essendo figlia di sarta ovviamente per me ci usavano i cartamodelli e gli spilli per rilevare le forme dei cartamodelli quindi faccio la stessa cosa ovviamente questo procedimento lo dovreste fare prima di mettere il perno perché tenere il perno ovviamente vi metterà vi farà vi renderà difficile l'operazione quindi ricordatevi prima di mettere il perno di ritagliare la sagoma su un pezzetto di carta del vostro retro ovviamente vedete io ho ritagliato il pezzetto di carta lo segno qual è il davanti perché poi lo girerò lo utilizzerò per creare il retro dell'altro orecchino di speculare poi adagio il mio modellino su un pezzo di carta normalmente avrei utilizzato una matita per il contorno ma essendo nero insomma non si vede il pastello il gessetto e quindi vado con degli spilli e fisso il mio modellino sulla mia base in ultra suite dopodiché tolgo gli spilli individuo il punto dove c'è il perno e con una piccola forbicina ovviamente effetto il buchetto per adagiare poi il nostro elemento controllo insomma che copra tutto il nostro orecchino dopodiché procedo con la colla ovviamente anche facendo questa operazione che abbastanza precisa sicuramente ci saranno dei punti dove ovviamente io andrò a rifilare la mia base in ultra suite infatti non vi nego che io preferisco direttamente tagliare e incollare in questo caso però essendoci il fiore di lato avrei avuto difficoltà e quindi ho preferito tagliarmi il modellino poi ovviamente molto lentamente con le forbicine vado a rifilare tutto quanto il contorno mi raccomando forbicine sempre ben affilate mani pulite perché questo veramente un momento molto ma molto dedicato quindi procedo pian pianino e niente poi ci vediamo faccio la stessa cosa ovviamente anche dall'altro lato girerò il mio modellino ritagliato e farò la stessa cosa anche per altro orecchino ed ovviamente voi alla fine del video vedrete che farò sempre lo stesso procedimento non cambia assolutamente nulla controllo che siano speculari dopodiché prendo l'altro modulino e in questo caso utilizzo il metodo che utilizzo sempre prendo direttamente un pezzetto di ultra suite e lo vado semplicemente ad incollare perché lo trovo più veloce specialmente quando non ci sono le parti di petali o fiori che non vanno rivestite quindi taglio i punti di congiunzione questo è il mio metodo dove ci sono le curve e poi procedo con calma a tagliare tutto come finalmente e giorno allora posso mostrarveli da vicino allora ho rifilato ovviamente il retro l'ho ritagliato ho messo il piccolo tag questa volta d'argento perché comunque ho messo il grigio ho messo insomma un po di nero quindi questa volta sono andata d'argento quindi il tutorial diciamo che è finito guardate che carino anche come anello dio io le dita corte però insomma sappiate che questo modulino si adatta facilmente anche ad anello e questi ovviamente sono i piccini il tag questo è davanti e niente vi saluto e ci vediamo alla prossima come vedete qui ho altri bottoni quindi probabilmente ci sarà un terzo video con questi colori dopodiché basta cambiamo ciao